Ciao a tutti! Oggi una piccola presa di coscienza. Allora, io che ho saputo, che ho potuto e saputo realizzare i miei sogni, il mio sogno di cantare, di esprimere i più grandi teatri e tutto il resto, adesso sono felice perché questa stessa possibilità che ho avuto io la sto dando anche a voi, la sto dando anche a chi studia con me, anche a chi vuole realizzare i suoi sogni, però in realtà io non posso realizzare i vostri sogni, io posso darvi le armi per combattere le vostre battaglie e saranno battaglie dure perché arrivare nei grandi teatri, arrivare ad avere una grande carriera non è facile, non è per tutti. Ci vuole quello che chiamavano tempo fa nei film di Stallone, l'occhio della tigre, bisogna volerci arrivare. Io posso insegnarvi a usare le armi per arrivarci, ma siete voi che dovete combattere le battaglie, quindi mi raccomando, non basta andare da un bravo maestro, non basta conoscere la tecnica, non basta saper cantare bene, ci vuole altro, ci vuole la grinta, quello che chiamano adesso è il disfatto, in realtà ci vuole la grinta, bisogna poterci arrivare e se questo lo volete davvero ci arriverete, come ci sono arrivato io, come ci è arrivata Chiara, come ci sono arrivati tanti, però ci vuole tanto, tanto lavoro e non parlo di lavoro solo a livello di studio, parlo di lavoro proprio a livello di volere arrivare, di volere raggiungere i propri sogni e questo ve lo auguro a tutti. Fatelo, ce la farete, però dovete avere ben chiari i vostri sogni, i vostri obiettivi e potete farcela, tutti ce la possono fare, soprattutto ce la possono fare senza scamotage e senza vie traverse, con onestà si arriva dappertutto e nessuno potrà mai chiedervi il conto, nessuno potrà mai chiedervi di saldare i vostri debiti, perché non avrete debiti con nessuno. Ciao e in bocca al lupo!